Un cordone di protezione! Una contestazione simbolica della chiusura! Resistiamo dei! Resistiamo occupati! Resistiamo di morte ed è incredibile che ci prendano ogni durante è incredibile che non ci permettono di dire niente! Grazie! 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 Vi sfruttiamo le nostre vite! Hanno usato l'idrante tutti di rimanere compatti di non disperdersi sono questi signori sono il blue block il blu è detto Sulla scala che è arrivata sopra il bosco di Capodimonte è passata a scatenare l'uso di idranti e allora che sono i derivati dall'uso di idranti, dall'uso di lacrimogeni, il dissenso. Grazie a tutti!